Un gran gala di danza al Teatro Petrarca. Torna per la decima edizione il concorso Piero della Francesca, che tra sabato 10 e domenica 11 febbraio vedrà centinaia di allievi ed allieve delle scuole di tutta Italia alternarsi sul palco del più prestigioso teatro cittadino davanti ad una giuria con maestri e coreografi di spessore nazionale. Il tutto inizia sabato perché abbiamo le masterclass con il maestro Chang dell'Opera di Roma e Matteo Levaggi della Scala di Milano che faranno le lezioni sul palco del Teatro Petrarca. La mattina della domenica inizieremo con una prima parte dedicata ai bambini e ai gruppi di pop, dalle 11 all'una e poi dalle 2 e mezza ci saranno l'esibizione di tutte le danze accademiche, di tutti gli altri corsi. L'evento è nato nel 2013 per fornire un'occasione di confronto e valorizzazione delle giovani promesse del mondo della danza attraverso il conferimento di borse di studio per l'accesso ad accademie o centri di formazione. Abbiamo riscosso in tutti questi anni veramente delle belle soddisfazioni sia dal punto di vista di pubblico e di adesioni da parte delle scuole ma soprattutto anche per gli obiettivi che poi abbiamo fatto raggiungere a molti ragazzi che hanno partecipato al nostro evento. Quest'anno tra l'altro abbiamo finalmente anche per noi come Progetti per la Danza la possibilità di poter presentare il nostro progetto CAB che è il collettivo Arezzo Ballet che verrà presentato ufficialmente in questa edizione del concorso.